Un'inaspettata e curiosa versione al femminile del capolavoro di Cervantes che ha debuttato in occasione dell'8 marzo. Purtroppo, e dico purtroppo, in questo momento c'è ancora bisogno di specificare il lavoro e l'uguaglianza delle donne rispetto agli uomini, perché in questo momento c'è bisogno di specificare sempre che siamo tutti uguali, perché in questo momento c'è sempre bisogno di specificare che ci vuole una E all'incontrare, cioè che c'è il neutro, esiste il neutro. Si intitola In Arte Son Quixote, il nuovo spettacolo di Officine della Cultura, firmato da Samuele Boncompagni e diretto da Luca Rocciabaldini, con studi e documentazioni di Stefano Ferri e le musiche di Massimo Ferri, eseguite dal vivo dai solisti dell'OMA, spettacolo che ha così portato il teatro direttamente nelle case degli Aretini. Non è uno spettacolo teatrale in questo momento, ma è uno spettacolo di teatro digitale, quindi fatto ad hoc per un movimento, una danza fra attori, scenografie e macchine da presa. In scena, in un teatro vuoto, solo Luisa Bosi ed Elena Ferri, due attrici che affrontano indirettamente la tematica di genere. Entrambe siamo due attrici che diventano Don Quixote e Sancio Panza, che in realtà sono entrambe Quixote, quindi è un po' anche un viaggio, se vogliamo, meta teatrale, di due attrici che diventano i personaggi, che diventano altri personaggi. L'ho trovato subito molto interessante, innanzitutto perché in un periodo come questo è bello sentire che c'è ancora voglia di fare, di costruire e non di fare la stessa cosa, perché questo non è teatro come sappiamo, è una forma di teatro digitale, di qualcosa di diverso, però ecco il fatto che ci fosse questa voglia, questa carica, sicuramente è stato come un'impresa Don Quixotesca, sicuramente. Lo spettacolo il prossimo 12 marzo incontrerà gli studenti delle scuole del territorio, per l'occasione il palcoscenico del Teatro Petrarca riaprirà virtualmente le sue porte. Avremmo dovuto avere tutti i ragazzi insieme in classe a guardarselo, invece saranno ognuno a casa propria, ma questo non importa, anzi forse ancora un motivo in più, perché tutti dentro le loro stanze, in questo momento così opprimente e distruttivo, spero che trovino questa forza.